Sapevate che un portiere palermitano degli anni 30 fino a fine anni 40 è stato lo zio di un noto mafioso condannato nel maxiprocesso? Francesco Paolo, detto Paolino Calò, era infatti lo zio di Pippo Calò, mafioso appunto condannato nel maxiprocesso a Palermo. Nacque a Palermo il 23 giugno del 1914, è stato un noto portiere soprattutto in territorio siciliano e prettamente a Palermo, tanto che poi una volta ritiratosi dal calcio fu anche noto come uomo d'onore della famiglia mafiosa di Porta Nuova. Tra l'altro costui è stato condannato da Tommaso Buscetta per essere un uomo d'onore. Per quello che ha fatto in campo sicuramente non si potrà dire nulla, ma al contrario ciò che ha fatto fuori sicuramente va condannato.